E ad Innsbruck saranno invece presenti i seguaci alto-tesini di Alberto Dagiussano. Il gruppo regionale della Lega Nord guidato da Franca Penasa ha deciso di partecipare al Landesfest Unzug che si terrà il 20 settembre a Innsbruck. I leghisti vogliono esserci per lanciare un chiaro messaggio, come ha spiegato la consigliera provinciale alto-tesina Elena Artioli. Noi siamo dell'idea, infatti sfileremo con degli adesivi, con sovrascritto insieme, padroni a casa nostra. Siamo dell'idea che gli italiani non devono più essere ospiti indesiderati nella nostra terra e che è giusto rispettare la storia. Senza una storia non c'è nemmeno un futuro, ma soltanto se questo avviene nel rispetto di tutti e tre i gruppi linguistici e insieme.